Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Mi chiamo Alessio, ho 14 anni, vengo dalla Calabria. Posso parlare con tutti, ma l'ultima parola deve essere la mia. Io zitta non posso stare. E devo sempre dire quello che penso, perché sennò non mi sento bene con me stessa. Dico sempre no comment, perché se comment, brutto comment, che significa tipo non ti commento, perché se ti commento ti offendo. È tremenda, insomma, è irrascibile. Fa tutto quello che vuole lei. È stata bocciata quest'anno, perché non studia, non si applica, soldi buttati dai libri. Papà e mamma hanno una mentalità un po' chiusa. Sono vecchi, cioè rimasti ai tempi loro, antichi. Possiamo non parlare più di loro? Non sono anche patici. Io da grande voglio fare l'estitista. Mi piace fare le unghie, magari, che ne so, la mia sencilla, cose così. Spero che al collegio impari qualche regola, cosa che a casa non fa. Io spero che arriverà a casa un po' cambiata. Spera. 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 밑. Un po' con, per l'era. Spera. Spera.